Buonasera, è sempre un piacere inaugurare una nuova stagione e farlo con una sala così piena aumenta l'entusiasmo per chi sa da questa parte, dalla parte del teatro. L'inaugurazione è sempre un momento speciale nella vita del teatro, tanto che si potrebbe quasi costruire una storia solo con i titoli che hanno aperto le stagioni del teatro. Un momento speciale perché si concentrano molte forze nel progettare questi titoli, nel organizzarli, nel trovare anche i contributi speciali per poterli portare in scena, nel comunicarli al mondo esterno e così via. E noi nel nostro piccolo cerchiamo con questi incontri di accrescere il piacere e il grado di partecipazione quando si viene poi a teatro. L'anno scorso toccò alla Bohème di Puccini, era il 120esimo dalla prima assoluta, con un nuovo allestimento che marcava questa ricorrenza. Quest'anno la scelta è andata su un titolo da far tremare i polsi, un'opera spartiacque nella storia della musica, Tristan Esotta di Wagner. L'esecuzione è affidata ovviamente al direttore musicale del teatro Gianandriano Seda, che ha peraltro a disposizione due cast di specialisti del repertorio wagneriano di altissimo livello. Li cito perché devono essere giustamente citati. Nel ruolo di Tristano sarà Peter Seifert, e lo spello che si alterna con Stefan Wink e Isolde sarà Riccarda Merbert con Rachel Nichols. Sulla scena vedremo uno spettacolo che per la prima volta esce dal teatro che l'ha prodotto, l'open house di Zurigo, e per la prima volta quindi si vede in Italia e porta la regia di Klaus Gutt. Tra le forze che prima dicevo necessarie per riuscire a portare in scena progetti di questa dimensione è appunto anche il contributo speciale di aziende che intanto sono quelle che fanno parte della fondazione del teatro Regio, ma per l'inaugurazione da sei anni abbiamo il contributo di Intesa San Paolo a cui si aggiunge quest'anno quello di Lavazza, che entrambi hanno scelto di sostenere questa produzione. È un'opera complessa, dicevamo, ed è per questo che il teatro ha pensato di aggiungere al tradizionale incontro che si terrà oggi bene altri quattro appuntamenti, tutti piuttosto diversi, li avrete già visti nel programma, non voglio adesso fare un bieco elenco, ma accompagneremo la recita di Tristano con altre conferenze, una conferenza spettacolo molto godibile e che aggiunge anche un tocco di ironia alla conoscenza di Wagner, fino al convegno che si terrà all'università. Quest'oggi ci parlerà di Tristano Isotta, il nostro direttore artistico, Gaston Fournier-Fassio, che è un grande cultore appassionato della musica tedesca, da Wagner a Mahler fino a Heinze, con cui ha collaborato all'inizio della sua carriera, e che a Wagner ha dedicato anche due pubblicazioni, pubblicazioni che peraltro potete trovare in foyer insieme a una piccola biblioteca wagneriana. Gli cedo musica e parola e buona conferenza. Buonasera, quindi iniziamo questo percorso a provare a spiegare questo monumento della storia della musica che ha veramente rivoluzionato il linguaggio. ha rivoluzionato la storia della musica, tanto che Bernstein si riferisce al Tristano come il lavoro centrale dell'intera storia della musica. è un'opera rivoluzionaria perché Wagner con il Tristano violenta tutte le regole dell'armonia, della grammatica dell'armonia che era la spina dorsale della musica. dal Rinascimento a Wagner tutti i compositori si misurano con queste regole armoniche che Wagner veramente mette in questione e proverò a spiegare come e perché. poi l'opera lirica si caratterizzava per la presenza di numeri chiusi, recitativo, aria, recitativo, aria, pezzi staccati, ben distinti e nel Tristano e sotto c'è un flusso continuo. è impossibile dividere il percorso in questi blocchi tradizionali e Wagner riesce a farlo anche con un uso insolito dell'orchestra. è un trattamento veramente sinfonico ispirato alle sinfonie di Beethoven e che lui introduce per primo così sistematicamente nella storia. poi c'è la tecnica della transizione e tutto è in continuo flusso e gli stati di animo che Wagner prova a comunicare e a caratterizzare con questa opera sono continuamente trasformazioni e non sapete mai in che stato di animo proseguirà il personaggio perché continuamente l'orchestra ci comunica espressioni emotive estreme che continuamente cambiano di colore e di temperatura e questa transizione psicologica fra un momento e l'altro è un'invenzione di Wagner. Ancora lo steigerung che potremmo chiamare questo continuo incremento e intensificazione di quello che sta succedendo ai personaggi sul palcoscenico continuamente appare nel Tristano Isotta c'è questo intensificare della temperatura e mai troviamo la fine mai c'è l'arrivo al riposo psicologico creato per questi momenti di intensificazione tranne che nelle ultime battute dell'opera. Poi, ancora una novità, Wagner ha chiamato quest'opera un Handlung che è quasi ironico Handlung, azione in tedesco è un'opera dove succedono così poche cose e quindi questa parola Handlung in tre atti che lui scrive nella prima pagina dovete interpretarla come un dramma interiore c'è un grande musicologo tedesco, Dahlhaus, che lui dice bene, Handlung e questo si riferisce a un dramma per un dramma totalmente psicologico e non esteriore e questo è aggiuntato dall'uso di questa Wissenden Orchestra di questa orchestra che sempre capisce più di quello che fanno i personaggi i protagonisti l'orchestra sempre ci racconta delle trasformazioni psicologiche dei personaggi al di là delle loro parole e tanto che Nietzsche si è riferito al Tristano Isotta con il nome di un opus metafisicum per lui le grandi vicende del Tristano Isotta succedono nell'interno del mondo dei personaggi e non sul palcoscenico e ancora mai prima di Wagner mai prima del Tristano Isotta si era creato un tale monumento al culto del amore il suo collegamento indescindibile con la morte è veramente una impostazione mai vista la morte e l'amore e la morte sono i temi più visitati dai compositori dai compositori d'opera però mai c'era stato prima del Tristano Isotta un conuvio dove l'amore può culminare soltanto nella morte e questo è il discorso che porterà avanti durante tutta la serata fino a questa trasfigurazione finale che chiuderà il Tristano Isotta allora provo a spiegare in dettaglio tutte queste cose che ho citato per giustificare il titolo della conferenza questo aspetto rivoluzionario del Tristano e la nostra storia comincia negli anni 50 metà dell'Ottocento Wagner è un profugo politico c'è un ordine di cattura ha partecipato a questi moti rivoluzionari a Dresda contro il re di Sassonia e se lui torna in Germania verrebbe subito arrestato e questo ordine di cattura rimarrà per più di dieci anni lui, qui lo vediamo, ha il suo arrivo in Svizzera dove rimarrà profugo dal 1849 al 58 a Zurigo, che diventerà la sua base di operazioni conosce un uomo ricchissimo Otto Wessendon sua moglie è Matilde e con la grande abilità di manipolatore geniale che era Wagner riesce a farsi mantenere da Otto e nel frattempo si fa ospitare in questa meravigliosa villa vedete alla vostra sinistra in alto non so se riuscite a vedere questo punto però in alto a sinistra sul lago di Zurigo c'è questa villa stupenda di Wessendon e qui la vediamo oggi come si può visitare sopra il lago di Zurigo e lì abitava Otto con Matilde Wessendon con la quale a partire dal 1853 Wagner sviluppa un rapporto intensissimo tanti hanno provato a capire se hanno fatto l'amore o meno è veramente indifferente credetemi perché sapere se hanno consumato o meno questa passione perché l'amore è stato talmente rovente come si può capire dalla corrispondenza intensissima quasi quotidiana che avevano questi due personaggi che per la nostra storia per la creazione del Tristano e quanto ci serve nel 1854 Wagner scrive una lettera molto citata a Franz Liszt il suo grande collega, amico, confidente e nonché in futuro suoscero Franz Liszt era maggiore di Wagner di solo due anni e scrive in questa lettera del dicembre 1854 e le dice a Franz Liszt Wagner poiché in tutta la mia esistenza non ho mai goduto nella sua perfezione la felicità dell'amore voglio elevare a questo che è il più bello di tutti i sogni un monumento, un drama in cui il desiderio d'amore sia pienamente soddisfatto ho in mente il progetto il progetto di un Tristan non i soldi la concezione musicale più semplice attenti la concezione musicale più semplice ma la più intensa allora quello che non poteva immaginare Wagner è che per arrivare a pubblicare completare e pubblicare la sua opera questo sogno dell'amore ideale impiegherà due anni e ben sei anni per poterla mettere in scena nella stessa lettera lui parla della scoperta della filosofia di Schopenhauer un filosofo nato nel fine settecento e che ha scritto un libro fondamentale nella storia della filosofia il mondo come volontà e rappresentazione un volumone di più di mille pagine e che Wagner scopre nel cinquantaquattro e che legge quattro volte di fila è appassionato e gli dice in questa lettera lista il più grande filosofo dopo Kant Schopenhauer e il suo pensiero fondamentale è la negazione finale della volontà di vivere e di spaventosa serietà e finisce con delle parole che sembrano il canto della trasfigurazione finale dei soldi che chiude il Tristano e dice Schopenhauer insegna l'intimo vivo desiderio della morte piena inconsapevolezza inesistenza assoluta scomparsa dei sogni unica definitiva redenzione e questo è scritto nel 1854 a diversi anni di iniziare e a comporre il Tristano allora l'uomo ricco Vesendon che li mette a disposizione nel giardino della sua vila questa casetta molto comoda vari piani in fondo al giardino sempre con vista al lago e Wagner la chiama subito asil asilo santuario e qui lui comincia a scrivere il Tristano e con grande dolore interrompe l'anello del Nibelungo proprio alla fine del secondo atto e guardate caso prima che Sigfrido salga la rupe e vada a svegliare Brunhilde che dorme protetta dal fuoco sacro e a scoprire prima l'esistenza della donna e l'amore sessuale con Brunhilde prima di proseguire con questo ultimo atto del Sigfrido Wagner interrompe per molti anni l'anello del Nibelungo e si sprofonda nel mondo del Tristano nel 1857 sempre in asil lavora a un abozzo in prosa essenziale per capire tantissime sfumature del Tristano e che vi consiglio di leggere perché sono poche pagine è scritto in prosa da Wagner dove racconta cose che poi nel libretto non sono così chiare e scrive il libretto il libretto lo finisce in settembre 1857 qui vedete proprio il manoscritto ancora con le correzioni del lavoro e il libretto pronto vediamo nella vita di Wagner un rapporto molto diretto fra vita e arte e la chiave di lettura della produzione che presentiamo al Teatro Regio ha sviluppato un'identificazione fra Wagner Tristano Matilde Matilde Wessendonck Isolde e Otto Wessendonck nelle veste di Re Marche allora c'è questo rapporto molto parallelo fra quello che Wagner sta componendo con il Tristano e quello che sta vivendo e volendo ancora più complesso di quello che ho detto e a settembre vengono a a SIL a questa casa dove sta lavorando Wagner tre donne a ascoltare la lettura del libretto del Tristano e sono Matilde von Wessendonck Mina Planner la moglie di Wagner e Cosima Liszt von Bülow con il marito e la cosa incredibile che sono le tre donne della vita di Wagner Wessendonck l'amante con la quale ha questa passione spirituale fisica non lo sapremo mai però c'è questo amore intensissimo Mina Planner per sua moglie e Cosima Wagner che fra pochissimi anni diventerà la sua amante e poi la sua moglie fino alla morte di Wagner quindi immaginate le tre donne e con i loro mariti mentre Wagner legge per la prima volta in pubblico un libretto che parla di triangoli amorosi io trovo questo affascinante sì sì e allora il Tristano di che cosa parla e quali sono le fonti utilizzate da Wagner bene è uno dei delle storie più antiche si dice che la leggenda di Tristano è di origine celtico e ci sono già dei documenti dal secolo dodicesimo e Wagner un uomo coltissimo devoratore di libri e conosceva alcune delle fonti non tutte e il suo libro fondamentale punto di riferimento è questo di Gottfried von Strasburg che lui leggerà e molto dettagliatamente poi anche semplificherà e questo libro di von Strasburg ha una trama molto complessa e ovviamente sviluppa la tradizione della leggenda dell'amore cortese molto importante nel medioevo e Wagner introdurrà delle variazioni e semplificherà eliminerà moltissimi personaggi moltissimi eventi in questo suo desiderio di scrivere un'opera verso l'interno dei personaggi e l'opera si sviluppa in tre luoghi fondamentali che vediamo qui è una carta geografica del secolo tredicesimo più o meno diciamo descrive Irlanda Inghilterra e la Francia nel secolo tredicesimo e sono in questi territori dove avviene tutto il Tristano il primo atto descrive un viaggio in nave e da l'Irlanda e non so se potete vedere questo laser piccolissimo però c'è una nave che porta Tristano e i soldi dall'Irlanda verso qua verso la Cornovalia e dove c'è il re Marche che è lo zio di Tristano il tutto il primo atto è questo viaggio in nave il secondo atto avviene nel castello del re Marche in Cornovalia e il terzo e ultimo atto avviene qui al sud nella Bretagna a Cariol nel castello di Tristano nella Bretagna e le novità a parte la semplificazione della complessa trama che ho detto le novità che Wagner introduce sono se vogliamo più filosofiche e lui prima di tutto sviluppa questa dicotomia questa dialettica fra giorno e notte che per lui e per i suoi personaggi diventano due universi totalmente contraposti e senza possibile comunicazione il giorno è il mondo della falsità dell'ingano delle pretese dell'onore delle convenzioni sociali la notte è il mondo della verità dove esce fuori il vero essere c'è anche nel Tristano è molto più forte che non nelle fonti medioevali una dicotomia fra pubblico e privato ci sono grande scene pubbliche nel Tristano come indicherò e e poi il mondo privato e sono assolutamente in contraposizione dialettica c'è poi la dicotomia fra amore e morte che nelle fonti medioevali non è così marcata così radicale e se volete dal punto di vista filosofico seguendo la filosofia di Schopenhauer si potrebbe dire che c'è una dicotomia anche fra fenomeno e fra un uomino fra il mondo esterno materiale e la coscienza interna la realtà ultima delle cose e libretto completo Wagner comincia a comporre la partitura e la compone in questo pianoforte lo potete trovare oggi in Svizzera alla villa sul lago di Lucerna Tripchen e un pianoforte come vedete qui con un po' più di dettagli Erard e ovviamente un regalo che Wagner aveva ottenuto dalla vedova del padrone della fabbrica lui sempre chiedeva soldi chiedeva regali era molto abile però lui considerava che era l'obbligo del mondo della realtà di donarlo di doni e di regali perché lui stava creando era totalmente cosciente del suo valore e della sua posizione nella storia il mondo doveva facilitarle e riempirlo di ambienti lusuosi e comodi in modo che lui potesse creare con totale libertà la musica avete sentito prima dell'inizio l'unleitung come chiama Wagner nella partitura l'introduzione al tristano oggi tutti dicono il preludio Forspiel però Wagner non l'ha mai chiamato così l'unleitung l'introduzione e già proprio in questa pagina in questa pagina prima della partitura dell'unleitung già troviamo se volete il manifesto estetico di quello che Wagner proverà a fare di questa diciamo azione subversiva se volete contro il mondo dell'armonia classica che ha guidato per secoli la musica occidentale non spaventarvi non sono un pianista però provo a illustrarvi un po' in dettaglio in che consiste questa rivoluzione Wagneriana allora ovviamente si ha parlato moltissimo del cromatismo Wagner ha scritto un'opera totalmente cromatica perdiamo il senso della tonalità e questo è vero in parte senz'altro è vero nella prima pagina dell'opera che vedete lì sullo schermo però essendo un grande uomo di teatro lui riempie la sua partitura di grandi contrasti quando sono i personaggi più terra a terra che agiscono l'armonia è molto tradizionale per esempio e qui sentiamo il tipo di musica che accompagna Curvenal lo Scudiere di Wagner è una musica tonale e abbastanza tradizionale o se questo passerebbe un esame di armonia in un conservatorio è una una questione totalmente prevedibile e secondo le regole quando cantano Tristano e Isotta le cose cambiano allora io vi suono adesso l'inizio le prime battute del Tristano e ve li suono tradendo Wagner ve li suono come se fosse stata composta da un compositore che rispettava le regole dell'armonia allora che cosa sono le regole dell'armonia e fondamentalmente semplificando moltissimo è una dialettica fra disonanza e consonanza fra instabilità e riposo c'è questo arrivo a casa il tornare alla tonalità che dà un senso di armonia e di riposo e quindi per esempio questo 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 finale diciamo questa tonalità la minore e questo arriva alla tonalità che dà un senso di pace lui nell'inizio comincia con questa musica che avete appena sentito in disco diretta da Von Karajan con i Wiener Philharmoniker sto tradendo Wagner non a spaventarvi quelli che lo conoscono a memoria lì si potrebbe riescrivere questo inizio del preludio suonando accordi totalmente tradizionali una trilogia una tria di armonica la do mi e poi e non è successo niente invece Wagner rompe tutti questi percorsi prevedibili prima di tutto c'è sempre una linea un leitmotiv un tema conduttore che parla del dolore di Tristano è sempre un tema in discesa in discesa cromatica questo è il presemitone e che fa così sempre più alto sempre queste sequenze più alte per creare questo senso di steigerung di intensificazione dell'emozione e quindi vediamo un po' come fa in questo inizio questo è il tema del dolore di Tristano che ripete ancora più alto ancora parallelamente c'è il tema del sensucht del desiderio della di i soldi e che sempre è un tema che ascende per semitone ancora più alto ancora più alto ancora più alto e se questo non bastasse tutto questo cromatismo c'è l'uso dei silenzi di questi sospensioni che lasciano totalmente vuoto creando un grande senso di di ansia se volete di aspettativa che non viene mai soddisfatta e fondamentalmente la tonica il riposo armonica non arriva mai e quindi adesso il vero Wagner ha fatto così e rimane per aria ancora più alto di nuovo silenzio sospensione e ancora più alto e questo è inizio del Tristano che apparirà in tantissimi momenti chiavi dell'opera qui nel preludio nel primo atto nel momento di bere il filtro d'amore e nel momento quando Marche infraganti scopre la copia adultera secondo il re Marche e gli chiede spiegazioni a Tristano come mai mi hai tradito si sente questo inizio questi accordi sospesi mai conclusi mai scritti secondo le regole dell'armonia la simmetria questa partitura sono tre ore e mezza di musica ma è scritta con una sapienza globale di tutta la partitura che è veramente impressionante sono tre atti primo e terzo atto parlano della luce e del mare siamo in pieno giorno e quindi è il mondo del fenomeno del mondo esterno il mondo se volete pubblico nel centro questi due atti racchiudono un atto notturno il secondo atto l'atto del grande dueto d'amore poi ogni atto comincia con una introduzione se volete preludio e poi in ogni atto c'è in questa armonia così densa così complessa c'è sempre un momento di di canto monodico senza armonia però che implica tantissime radici della musica la canzone del marinaio nel primo atto e la nenia del pastore nel terzo atto e poi il grande clarinetto basso che accompagna il lamento del re Marche però è ancora più importante per la struttura dell'opera il primo atto parla del dolore e della furia di Sotta il terzo atto parla del dolore e dell'agonia di Tristano e nel centro c'è il dueto d'amore quindi questo da una grandissima struttura equilibrio e drammaturgico se volete all'opera in tutti i tre atti poi c'è sempre un evento drammatico in questa opera che si dice che non succede niente in ogni atto succede la cosa fondamentale primo atto i protagonisti Tristano e Sotta bevono il filtro magico dell'amore che io preferisco dire il brindisi della spiazione però parleremo di questo secondo atto il momento chiave è la fiaccola capovolta quando la luce viene spenta e il segnale per far arrivare Tristano e il terzo atto il terzo atto c'è il grande evento che è l'arrivo di Isolde quindi sempre c'è un evento chiave il mondo esterno il mondo esterno io ho parlato di questa dialettica tra pubblico e privato e sono atti quasi solipsistici dove si parla soprattutto di questi due personaggi Tristano e Sotta di quello che succede nel loro mondo interno però il mondo pubblico e il mondo esterno sempre irrompe alla fine dell'atto l'arrivo alla cornovalia quando finisce il viaggio in nave del primo atto e l'arrivo del re Marche, Melot e tutti i cavalieri secondo atto il grande duetto d'amore notturno finisce con la irruzione violenta del mondo pubblico di nuovo re Marche, Melot e i cavalieri il terzo atto il terzo atto dell'agonia di Tristano finisce con l'arrivo di re Marche, Melot, soldati, battaglia e così via ancora in ogni tre atto c'è un suicidio questo ho letto tutto quello che si può leggere sul Tristano non viene specificato chiaramente però c'è un suicidio però un suicidio amoroso e la ricerca del passaggio verso l'aldilà insieme all'amata quindi la parola suicidio non mi piace però in ogni atto i protagonisti aprono la porta della morte e si lanciano verso l'aldilà e quando bevono il filtro magico convinti che sia un veleno che li ucciderà secondo atto quando Tristano nel duelo con Melot alla fine abbassa la guardia e si fa ferire vuole morire e il terzo atto quando Tristano si strappa le bende che lo proteggono di questa ferita del secondo atto e muore in braccia ai soldi e poi lo steigerung questa parola che mi piace molto Wagner non è che l'abbia usata però è molto chiara in tedesco questo incremento intensificazione del clima psicologico e che succede continuamente verso la fine del preludio o Ein Leitung la introduzione o Evige Nacht nel secondo atto il grande duetto d'amore arriva a un parossismo di intensità quasi insopportabile e Milt und Leise il grande monologo finale di Isolde è un altro grande esempio di questa intensificazione allora la musica del Tristano caratteristiche a parte questo cromatismo questo sabotaggio più che sabotaggio diciamo questo allontanarsi delle regole dell'armonia per creare questo mondo ambiguo questo mondo dove non si sa dove siamo dove andiamo perché sparisce la struttura sulla quale gli ascoltatori di musica classica occidentali erano abituati a muoversi allora la musica flusso continuo niente numeri chiusi questo flusso è presentazione quasi sinfonica alla Beethoven dell'uso dell'orchestra transizione continua questi continui cambi di stati di animo senza soluzione di continuità l'uso di un'orchestra che non era mai vista prima di adesso mi raccomando lo spettacolo del Teatro Reggio è affascinante abbiamo interprete meravigliosi però ascoltate il lavoro di il maestro Noseda con l'orchestra perché l'orchestra ci racconta il 70% di quello che sta succedendo nell'interno dei personaggi quindi mai sempre ascoltare con un orecchio il palcoscenico e un orecchio molto attento la buca d'orchestra fondamentale bene il primo atto c'è un antefatto c'è il viaggio in nave e Isolde è particolarmente arrabbiata e lei subito parla di capo sacrato alla morte capo cuore sacrato alla morte appena intravede Tristano che si rifiuta di incontrarla e la musica diventa molto cupa molto violenta questa è la prima volta che lei vede Tristano sulla nave e poi fa un racconto dell'antefatto a Branghene e lì racconta la cosa per me più importante di tutto il Tristano per provocazione per tradizione ho messo come prima immagine qua il momento del calice e del filtro dell'amore e quasi tutti che illustrano il Tristano usano quello come simbolo è un momento culminante dell'opera però non è la ragione dell'amore fra Tristano e Isotta se c'è una cosa che voglio comunicare è che Tristano e Isotta sono perdutamente innamorati uno dell'altro prima di avvicinarsi al filtro dell'amore questo è fondamentale e i soldi ce lo fa capire in questo suo racconto dell'antefatto a Branghene quando Branghene le dice ma perché ce l'hai con Tristano perché questo odio parlare di morte e testa e cuore di Tristano consacrato alla morte e lei dice bene lui ha ucciso il mio fidanzato non è cosa da poco però è successo un'altra cosa lui è arrivato in Irlanda agonizzante per tante ragioni non posso perdermi in dettagli che sono affascinanti però li do per scontato Tristano è agonizzante arriva dai soldi in Irlanda perché si conoscono le sue tecniche di guaritrice e lei lo sta guarendo però scopre per via della spada rovinata di Tristano eccetera eccetera scopre che Tristano è l'assassino l'uccisore diciamo l'uccisore del suo fidanzato Morold e quindi lei prende la spada di Tristano e sta per ucciderlo tutto questo lo sappiamo da un racconto non si vede questo è l'antefatto lei sta per uccidere Tristano e in quel momento Tristano che è sul letto alza il suo sguardo e dice i soldi non su la spada non sulla mia mano ma sui miei occhi e lì mi è caduta la spada e in quel momento è stato lo sguardo di Tristano che seduce i soldi e lì loro si innamorano uno dall'altro e quindi Wagner che utilizza questi famosi leitmotiv e motivo guida per aiutarci a orientarci per fare delle caratterizzazioni complesse miste di sentimenti durante l'opera c'è un leitmotiv un motivo conduttore del bleak del bleak lo sguardo e per me dal punto di vista drammaturgico è il più importante leitmotiv e quindi ve lo suono e ve lo suono anche due volte in modo che vi entri nella memoria e quando sentirete il Tristano provate a riconoscerlo e quindi è molto semplice però molto tenero dopo dopo questa invocazione a questa invocazione alla morte adesso appare questo tema meravigliosamente tenero ancora il leitmotiv dello sguardo però dopo con queste sempre con queste transizione dopo aver fatto questo racconto dell'antefatto lei dice e Tristano mi ha tradito due volte prima perché ha ucciso il fidanzato però lei veramente si sente tradita prima perché Tristano non ha proseguito ha lanciato questo sguardo d'amore e poi si è allontanato condizionato dal giorno dalla luce che nel Tristano vuol dire l'onore la rispettabilità la funzione sociale di Tristano nella corte del re Marche prima cosa secondo tradimento Tristano invece di venire in Irlanda tornare dopo la sua guarigione lui va a Cornovalia e adesso torna di nuovo in Irlanda a prendere i soldi e non per se stesso ma per portarla in omaggio a suo zio un vecchio re e lei questo non tolera e lei dice mai vorrò andare a Cornovalia sono su questa nave però assolutamente mi rifiuto a sposarmi con Marche e quindi lei dice Rache Tod Tod uns beiden vendetta morte entrambi entrambi lei pensa subito che vuole morire insieme a Tristano e questo è l'impronta già dall'inizio dell'opera e allora il tema del questo è il tema del veleno del Todestrank il filtro della morte che per lei quello è quello che vuole dare una calice a Tristano e quindi questa qui la musica diventa veramente violenta e quindi arriviamo al momento culminante del primo atto Tristano il brindisi il calice fra loro due e dove i soldi fa chiamare Tristano e dice se Tristano non viene da me non scendo non vado dal re Marche quando arriviamo a Cornovalia e obbliga la sua ancella branghene a preparare il filtro della morte il veleno massimo che guarisce e che cura tutti i mali e lo offre a Tristano e Tristano che sa cosa sta succedendo e dice una frase tutta criptica che vedrete sui sopratitoli però difficile capire il senso così a uno sguardo la signora del silenzio silenzio a me impone se comprendo ciò che ha taciuto taccio ciò che non comprende e praticamente parla di questo fatto che loro due sono innamorati uno dall'altro però per tanti ragioni non hanno il coraggio di manifestarlo e così lui dice con il calice in mano il calice ora prendo si che tutto io risani beneficio liquido d'oblio ti bevo senza tremare e lui comincia a bere e i soldi va in tutte le furie e dice inganno anche qui mia è la metà del calice traditore io bevo a te e lei gli strappa il calice e quindi beve anche lei perché l'obiettivo è morire insieme quindi sentiamo questo momento intensissimo il grande evento del primo atto il brindisi con il filtro apparentemente il filtro della morte e ovviamente sappiamo che Ebranghene non ha avuto il coraggio di vedere suicidarsi praticamente o di vedere uccidere Tristano e morire la sua damma e ha cambiato ha scambiato i filtri e non ha usato il filtro della morte ha usato il filtro dell'amore e la musica e questa visendance orchestra questa orchestra sapiente quella che ci dice cosa sta succedendo in un momento intensissimo e molto difficile da realizzare sulla scena perché loro bevono questo e sono sulla scena pronti a morire e cominciano a sentire delle cose inespiegabili e la prima sensazione è la sensazione di imbarazzo di imbarazzo perché si sta liberando un sentimento che era represo e che viene fuori in modo incontenibile quindi sentiamo esattamente questo momento il primo atto finisce male con questi due che provano a abbracciarsi che si cercano in continuazione e arriva tutta la corte della cornovalia a ricevere la futura la promessa esposa del re è terribile e Wagner comincia a comporre il secondo atto e succede un problema domestico e lui aveva questa corrispondenza quasi quotidiana con Matilde von Wessendon molto intensa e molto aperta non si parla di sesso però di tutto il resto sì e di una totale condivisione del senso della realtà dell'estetica della musica e una delle lettere più compromettenti finisce nelle mani della della moglie o se questo che Matilde von Wessendon finisce in mani della moglie scusate di Mina Planer e succede il fine mondo lei crea una grandissima crisi va con la lettera dal marito Otto von Wessendon e in poche parole Wagner vede che non può più restare a Zurigo a Asil il santuario che le era stato messo a disposizione e scappa da Zurigo a Venezia dove come sapete morirà nel 1883 una città molto vicina a Wagner forse per quello che sta per succedere lui arriva a Venezia affitta un piano in questo palazzo Giustinian che oggi proprio sul canale grande poco dopo il rialto ha la curva dove c'è l'università e a sinistra c'è il palazzo Giustinian e lì lui comporrà la grande parte del secondo atto il secondo atto il grande duetto d'amore è nato a Venezia e parallelamente mantiene una fluviale appassionata corrispondenza con Matilde non con la moglie ma con Matilde e rimangono legatissimi e allora il secondo atto e qui scenografia della prima assoluta Monaco di Baviera 1865 e vediamo in alto a sinistra in quel balcone Branghene sentinella che custodisce la notte d'amore di Tristano e Isotta e la corte apparentemente è andata via a una caccia notturna che Branghene teme che sia finta che sia una trappola e Isotta non ascolta ragione e c'è questa di Leuchte la lucerna che è il segnale per dirgli a Tristano che può venire che la corte il marito sono andati via a caccia e che lui si può avvicinare e vi faccio sentire questo momento che è di un'intensità pazzesca il grande evento del secondo atto la fiacola capovolta una torinese musicologa Elisabetta Fava grande specialista di opera romantica tedesca ha studiato ha fatto un bellissimo saggio su questo tema e fiacola capovolta simbologia funeria funeraria classica e pagana e lei che studia in dettaglio allora e c'è questa intensità di soldi che dice anche fosse la luce della vita questa lucerna io ridendo a estinguere non tremo e lei spegne la tor questa torcia questa lucerna e arriva a Tristano e sentite quello che succede alla musica questa transizione che vi parlavo come cambia assolutamente a occhio lo stato di animo senza soluzione di continuità sentiamo il numero 6 e adesso comincia questa notte d'amore molto lunga forse il più grande più impressionante intenso duetto d'amore mai scritto se non altro per la dimensione l'ambizione di questa composizione continuamente si trasforma e vi faccio sentire con questa questa transizione molto amata da Wagner vi faccio sentire due grandi momenti della notte d'amore prima che è questo notturno è forse il momento più magico di tutto il Tristano e Isotta sentiamo il numero 7 non abbiamo tempo di lavorare però dovete fidarvi questo testo del duetto d'amore è ispirato a due grandi personaggi della letteratura e la filosofia tedesca prima di tutto Novalis che ha scritto muore a 29 anni e ha scritto questo libro meraviglioso tradotto in italiano ottime traduzioni anche con il testo a fronte Hymnen an die Nacht e dove per primo stabilisce questo rapporto fra notte e morte e l'amore come strumento di trascendenza che vi consiglio di leggere Novalis Hymnen an die Nacht Inni alla notte e poi Schopenhauer questo filosofo che è stata una rivelazione scoprirlo tre anni prima di cominciare a comporre il Tristano e lui è il grande filosofo del pessimismo un filosofo che ha scritto questo libro il mondo come volontà e rappresentazioni nessuno lo ha determinato e a un certo momento esplode in Europa negli anni 40 e Wagner lo scopere negli anni 50 è una filosofia pessimista perché ha una visione negativa dell'uomo dice la cosa migliore che può fare l'uomo è morire nel senso che l'uomo è condannato al disastro perché è vittima di questa volontà che è il desiderio inapagato io desidero desidero per esempio con il sesso io ho questo desiderio e appena sono stato soddisfatto poco dopo di nuovo questa brama che deve essere di nuovo appagata e lui dice ci sono possibilità di redenzione di fuggire di questo martirio della volontà del desiderio che non trova pace e sarebbe una sì forse con la sublimazione artistica la musica lui scrive il primo grande ino filosofico sulla musica il misticismo è un'altra possibilità però forse la cosa più efficace è la morte dice perché così fermiamo vedete questa è la copertina del libro il mondo come volontà e rappresentazione con la morte fermiamo la macchina evitiamo che questa brama inapagata continua continui a trascinare l'uomo in questo senso in questo circolo vizioso del desiderio insoddisfazione e dolore Wagner alcune cose li usa e ci sono frasi che vengono quasi direttamente da Schopenhauer in questo duetto d'amore però c'è una grande differenza Wagner crede che la redenzione sì forse attraverso la morte però attraverso l'amore e l'amore è quello che può veramente redimere le persone e guardate i personaggi come senta Elisabetta i soldi stessi sono esempi dove lui trova questi personaggi che è nell'unione di queste due individualità che insieme si avvicinano alla morte e superano l'egoismo e questi desideri inapagati trovano la trascendenza e Wagner finisce il suo duetto d'amore con un momento di un'intensità pazzesca ci sono parole come così siamo morti congiunti eternamente vivere solo d'amore eterna notte dolce notte e tu Tristano dice tu sei Tristano io sono i soldi dobbiamo confondere le nostre individualità dobbiamo essere senza dir nome senza distacco infinita eterna unica anima sentiamo questo o evige Nacht che cresce sempre cresce sempre di tensione e ci annuncia già il grande finale usa le stesse le stesse note che utilizzerà Wagner per chiudere l'opera il grande canto finale dei soldi che chiude l'opera già si preannuncia qui nota per nota la stessa melodia in o evige nacht sentiamo l'inizio del numero 8 e lì il grandissimo duetto d'amore che sta arrivando a questa culminazione che non trova mai lo troverà solo al finale dell'opera e viene comunque interrotto dall'arrivo dal mondo pubblico la società l'onore la corte il re marce che interrompono qualcuno ha scritto di coitus interruptus e la musica sembrare di però veramente non è così non è così in tutta l'opera C'è un momento di contatto fisico, però è totalmente tenero e è quando loro vengono interrotti, diciamo senz'altro in flagrante delitto, questo è chiaro, e il re Marche che adora Tristano non capisce e gli chiede ma che cosa è successo, come mi hai potuto fare questo? Dico è orribile, questo inferno che non potrò mai superare e l'orchestra che risponde, perché lui dice guarda non ti posso spiegare e quello che io ho vissuto tu non lo potrai mai capire e si sente l'inizio dell'opera, questi famosi accordi dissonanti e non risolti di Tristano. Qualcuno ha evidenziato il fatto che è una delle fonti di Wagner per quest'opera, a parte Tristano Isotta di von Strasburg, c'è l'eresia dei cattari o conosciuti come gli albigessi. Questa era una setta, un gruppo tra il secolo XI e XIII, idealizzazione della donna, però che parlavano dell'amore irraggiungibile, l'amore passione, l'amore passione, l'amore dell'amore, la ricerca dell'estasi, però la negazione della materia, la negazione della vita terrena. Quindi è rigorosa liberazione, contraria al matrimonio, e parlano di questa dialettica fra spirito e materia, anima e corpo, imponendo la castità assoluta. E quando c'è questo finale del secondo atto, Tristano, l'unico gesto veramente fisico che vediamo è che si avvicina ai soldi e gli dà un bacio molto molto casto sulla fronte. E questo stimola Meloth a voler uccidere Tristano. Anche scopriamo che nemmeno il re Marche ha fatto l'amore con i soldi. Ampa San lo vedrete così un istante sui sopratitoli, però lui dice Io di questa donna che ho avuto assoluto rispetto non ho mai osato avvicinarmi fisicamente a lei. Lo dice il re Marche e sua moglie e non l'ha mai toccata. E quindi potrebbe darsi che i soldi siano ancora vergine e che muoia vergine. È una possibilità e lascio a voi di decidere. Il fatto è che siamo a Venezia, Wagner ha finito il secondo atto e si presenta la polizia austriaca. Ricordiamo che Venezia era territorio austriaco e la Sassonia ha mandato despaci informazioni dicendo Wagner è un noto agitatore politico e viene dichiarato persona non grata. Per fortuna il secondo atto è finito e lo buttano fuori. Lui non può tornare a Zurigo perché c'è la crisi Matilde e Mina. Mina in ogni caso è già andata a Dresda eccetera. E quindi lui che cosa fa? Scappa in Svizzera e va, o torna in Svizzera se volete, e va a Lucerna. Qualcuno conoscerà il Festival di Lucerna, Abado eccetera. E è qui dove moriranno Tristano e Isotta. Nel senso che è qui dove Wagner finirà l'opera. E in questo bellissimo albergo, vedi che lo vedete già qua, a sinistra della chiesa, il grande edificio separato, io ho dormito lì una volta per passione di Tristano e Isotta, sono andato per vedere, per sentire il profumo storico dove Wagner, e guarda, ancora è un po' così, però queste sono fotografie che ho trovato dell'epoca di Wagner, però ancora non è molto diverso. e in questo Dependance a sinistra, lì lavora per vari mesi e lì scriverà il terzo atto. Allora il terzo atto è un atto disperato, ho detto primo atto dolore di solde, terzo atto dolore di Tristano. E l'inizio è terribile, è di un dolore metafisico. c'è Tristano ferito in fin di vita e c'è questo preludio che veramente è pieno pieno di dolore. Ah, perdone. E poi c'è questo motivo, tutto che sale, come sarà l'ascesa di soldi alla fine. e torna il preludio. Tristano è disperato perché è proprio ferito e lui aspetta i soldi. e vi faccio sentire un passaggio dei più intensi. Quando lui solescita i curve, gli dice, ma quando tornerà i soldi da me? E lui aspetta il ritorno di lei per praticamente darle la possibilità di morire e liberarsi di questo dolore. E dice, il desiderio atroce che mi dilania, lo spassimo bruciante che mi consuma. I sotta, verso me, remeggia. Das Schiff, das Schiff, sentirete questo urlo alla fine. La nave, la nave, non la vedi, Curvenal, la nave che mi deve portare in Bretagna i soldi. Sentiamo questo passaggio del terzo atto che è veramente quasi soffocante, del dolore, della disperazione di Tristano. E arriviamo finalmente al ritorno, all'arrivo di soldi. Qui un disegno della prima soluta, Monaco, Curvenal, che gli dice, arriva, arriva la nave, i soldi arrivano e così come Tristano e i sotta hanno bevuto il calice con il veleno, secondo loro, nel primo atto, così come nel secondo atto Tristano si fa pugnalare da Melot e invita, prima del duelo, i soldi a seguirlo nel regno della notte, che vuol dire seguimi nella morte, moriamo insieme. Adesso c'è Tristano, quando sa che i soldi stanno arrivando, si strappa le bende e il sangue comincia a fluire perché lui vuole morire quando i soldi arriveranno, i soldi arrivano e Tristano muore nelle sue braccia. e lei finisce l'opera con questo momento di allucinazione, di redenzione e lei vede, vede Tristano che sale, che sale in aria e canta questo Mild un laise e che è la melodia che abbiamo sentito già tanto nel secondo atto, ve la ricordo. è questa melodia che chiuderà l'opera, la cosa impressionante è che questa melodia è semplicemente la versione melodica dei terribili, famosi, irreverenti accordi di Tristano, il Tristan accord dell'inizio dell'opera, vedi, c'è questo, questi accordi che abbiamo sentito nel preludio e Wagner le fa, le sviluppa melodicamente e questo, vedi, questa melodica secondo accordo e questo gli dà un'unità pazzesca all'opera che chiudere con questi accordi non risolti e che adesso sono loro che costruiscono la melodia che permetterà ai soldi di trasfigurarsi e quindi Wagner, quando aveva finito il Tristano, fa un viaggio a Venezia con i Vesendonc e hanno visto insieme l'ascensione della Vergine di Tiziano a Santa Maria Gloriosa dei Frari e Tristano ha detto, quella è la mia solde, quella è il freclerum, la trasfigurazione dei soldi sentiamo il finale dell'opera con queste parole assolutamente mistiche nella palpitante pienezza del respiro del mondo naufragare, annegare, inconsapevole, estrema estasi e questo è i soldi che muore provando a raggiungere il suo amore Tristano vi chiedo pochi minuti per chiudere il discorso Wagner ha completato la sua partitura un uomo così intelligente, così cosciente del suo valore e così conoscitore della storia della musica lui sa di aver fatto una cosa assolutamente insolita, mai vista scrive una lettera a Matilde e gli dice questo Tristano sta diventando qualcosa di spaventoso l'ultimo atto, ho paura che proibiranno l'opera e farà impazzire la gente allora la cosa terribile è che lui ha nel cassetto questo capolavoro questa bomba atomica che trasformerà, cambierà la storia della musica e non riesce a portarla in scena qui Wagner a Parigi 1860 è lì per rappresentare il Tannhäuser ha un successo di scandale all'opera eccetera, però non riesce a trovare un teatro e adesso non mi posso raccontare i dettagli però fa un peregrinaggio per Europa Karlsruhe, Viena fanno 70 prove a Viena in due anni dichiarano che l'opera è ineseguibile perché apprezzate il lavoro di Noceda con la nostra orchestra e veramente è salire un monte Everest e seguire il Tristano, credetemi e poi Wagner gira di qua fa il direttore d'orchestra guadagna un po' di soldi spende sempre il doppio di quello che guadagna è pieno di debiti e chiede soldi in prestito e arriva un momento che è veramente disperato sull'orlo del suicidio e rischia l'arresto lui contempla il suicidio e 1864 veramente non sa che cosa fare e con il Tristano che lì finito nel 59 sono cinque anni che prende la muffa in un casetto in una valigia mi fa impazzire questa idea un tale capolavoro e nessuno lo sa nessuno lo sa e il miracolo succedono i miracoli nella vita quest'uomo sull'orlo del suicidio incontra il miracolo e Ludwig II appare nella sua vita manda gli emissari lo prendono e per forza lui pensa che siano che siano dei creditori a Stoccard e lui prova a fuggire lo obbligano e lo portano quasi per la forza a Monaco di Baviera e lì scopre il re Ludwig di Baviera da poco il re della Baviera che conosce l'opera di Wagner i suoi scritti a Menadito crede che Wagner sia Dio sulla terra e gli dice ma che lei ha dei debiti li azzeriamo tutti cancella tutti i debiti gli dà un castello dove abitare è come se questo non bastasse e poche settimane dopo arriva Cosima Liszt moglie del grande direttore fedele wagneriano e se gli offre e se gli dice sono tua fai di me quello che vuoi e lei è una donna sposata e con lei si si consuma l'amore e questo ve lo posso assicurare e lei e questo ci sono tante fonti e lei e lei e e e adesso con questo appoggio di Ludwig li mette a disposizione il teatro della capitale bavarese monaco di baviera e qui vediamo wagner e lì il secondo da sinistra il secondo seduto e dietro di lui Hans von Bülow Hans von Bülow è il marito di Cosima che è lui un santo un martire dell'amore e lui è lui un grandissimo musicista egregio pianista il miglior allievo di Franz Liszt e per questo ha sposato la figlia di Franz Liszt e lui prende questa missione di eseguire per la prima volta Tristano e fa 40 prove anche lui non le 70 di Viena ma 40 e mentre lui il giorno questo è terribile poverino però il giorno della prima prova del Tristano nasce da Cosima von Bülow Liszt una bambina che è figlia di Wagner il giorno della prima prova a Monaco di Baviera e come viene battezzata ovviamente Isotta tanto per così e però Hans von Bülow e lui sa quello che sta succedendo questo diciamo menage a trois se si può dire perché era menage a due con lui che presenziava l'adulterio e qui siamo nella piazza dell'opera di Monaco di Baviera lì la copia del palazzo Pitti che c'è a Monaco di Baviera a destra l'edificio reale dell'opera qui lo vedete più centrale e qui avviene la prima assoluta del Tristano e che è un epoch making veramente un spartiacque osea finalmente il mondo ascolta questo capolavoro e non è che è diventato famoso dopo la morte del compositore subito subito e la gente si rende conto che è successo qualcosa di inaudito di inaspettato di imprevedibile e questo è il manifesto 10 giugno 1865 terribile di realizzare che la precedente prima assoluta di Wagner era stato 15 anni prima l'ultima volta che il mondo aveva sentito una nuova musica di Wagner 1850 Weimar Loingrin senza la presenza del compositore che era un prof politico diretto da Franz Liszt che dirige la prima assoluta dell'Oingrin dal 1850 al 65 il mondo non ha mai sentito una nota di nuova di Wagner già aveva composto l'oro del Reno già aveva composto la Valkyria i due interpreti Ludwig Schnorr von Carlsfeld un vero helden tenor e la moglie un miracolo marito e moglie che riescono a cantare queste parti micidiali immaginate in casa quello che si sentirebbe la sera mentre loro provavano il duetto ho pensato a queste cose al duetto il secondo atto a casa se non che il grande successo della prima assoluta però pochi giorni dopo la prima assoluta muore il tenore e ovviamente gli nemici di Wagner dicono chiaro è un'opera che spacca le golle che aspettavate ha cantato il Tristano è morto e poi non basta cominciano gli scandali contro Wagner e qui una caricatura dell'epoca molto offensiva e a sinistra entra a sorpresa Re Marche come alla fine del secondo atto però chi è? Hans von Bülow e a destra sorprese e inflagrante c'è Cosima la moglie di von Bülow con Wagner vestito da Tristano e non basta i politici e i ministri di Ludwig dicono che questo uomo sta rubinando le finanze della Baviera buttiamolo fuori e poi Wagner viene chiamato Lollet Lollet perché Lollet perché il nono di Ludwig secondo di Baviera Ludwig I aveva preso come amante una donna di teatro una ballerina cantante Lola Montes e quindi Wagner viene chiamato Lollet o sea molto molto offensivo quindi Wagner scappa scappa da Monaco con una pensione a vita da Ludwig non è che patisce la fame e qui prende questa casa meravigliosa che potete visitare appena fuori Lucerna e lì lui finirà il Siegfriedo lì comporrà il crepuscolo degli dei lì comporrà i maestri cantori è veramente meravigliosa è così oggi e qui è il lago di Lucerna e lì sarà per molti anni già finalmente Fonbulo dà il divorzio e muore la moglie di Wagner e quindi Cosima e Wagner si possono sposare e c'è tutta la storia dell'anello del Nivellungo Bayreuth vi dico che Tristano arriva a Bayreuth soltanto nel 1886 dopo la morte di Wagner morto da tre anni e diretto da Felix Motul da prima di Tristano a Bayreuth e Motul che aveva orchestrato i Wessendonk leader cinque poemi scritti da Matilde von Wessendonk orchestrati e musicati da Wagner due dei quali sono materia prima per il Tristano bene scandali problemi personali di Wagner però lui viene subito riconosciuto dal mondo il Tristano comincia ad andare ovunque arriva a Bologna prima italiana lo fanno al Metropolitan al Covengarden ovunque e veramente si diffonde il messaggio di quest'opera rivoluzionaria e come era successo con il Werther di Goethe che finisce con un suicidio c'è un'onda di drogati di Tristano ha detto un critico musicale i drogati di Tristano che si suicidano per identificarsi con Tristano e veramente non solo ha cambiato la storia della musica ma ha cambiato la storia del costume Wagner con quest'opera e molti dicono che il decadentismo con la D maggiuscola il decadentismo europeo parte condizionato influenzato dal Tristano e vi faccio una carrellata finale per salutarvi di cose sparse che sono nati solo perché c'è il Tristano e perché vedete che non ha cambiato solo la storia della musica per esempio Nietzsche questo grande filosofo che ha visitato tante volte Wagner a Tripschen in Svizzera lui scrive il suo primo grande libro Geburt der Tragödie la nascita della tragedia dallo spirito della musica e una visione nuova della tragedia greca vista attraverso gli occhi delle opere di Wagner e dove il Tristano viene chiamato Opus Metaphysicum la prima opera lirica dove veramente si parla delle cose ultime della vita questo non lo conoscete però è John William Waterhouse e lo avete visto dappertutto a Torino perché è l'autore di questa pittura e lui ha fatto come tante pre-Rafaeliti sono stati influenzati e hanno fatto pitture immagini ispirati al Tristano per esempio quest'altro che amo questa fotografia la trovo bellissima Aubrey Beardsley autore di un ciclo di immagini su Salome scrive e fa anche un ciclo di immagini sul Tristan Unisolde con questo stile floreale diciamo qui siamo in fine ottocento poi per venire più vicino alla vostra casa Danunzio che c'entra Danunzio con il Tristano bene ha scritto è un autore che si può collegare con il decadentismo europeo lui ha scritto questo romanzo Il trionfo della morte in sei grandi parti la sesta parte si parla tantissimo di Tristano e i due innamorati si buttano da un da un come si dice un promontorio verso il mare e muoiono insieme come in parte come Tristano Isotta Gustav Mahler ovviamente Mahler era adoratore di Wagner quando debuta come direttore del Metropolitan di New York direttore musicale il Noceda del Metropolitan Gustav Mahler e lui con che si presenta qual è la sua carta di visita Il Tristano prima opera che dirige in Stati Uniti non solo il famoso adaggetto di celebre viscontiana memoria a me non piace l'interpretazione di Visconti adoro il film non come interpreta l'adaggetto perché l'adaggetto è un canto d'amore che Mahler era scritto per Alma la cosa impressionante è che nella parte centrale dell'adaggetto è tutto basato su il blix motive il motivo dello sguardo del Tristano e a Alma gli arriva il manoscritto dell'adaggetto lei era un'ottima pianista si siede al pianoforte lei suonava il Tristano con lo spartito senza problemi è un'impresa e lei suona il manoscritto dell'adaggetto e a un certo punto vedi la citazione del tema dello sguardo e conoscendo bene la dramaturgia del Tristano manda un messaggio a Mahler e le dice vieni e così comincia il loro amore Thomas Mann Thomas Mann premio Nobel della letteratura uno dei massimi scrittori di letteratura tedesca ha scritto come ultimo atto in Europa 1933 prima di scappare dal nazismo 1933 fa una conferenza Gloria e miseria di Wagner e parla di tantissime cose però lui ha fatto dei saggi molto belli su Wagner adorava Wagner però più puntualmente ha scritto una novela che si chiama Tristan che mi sembra che l'avrete vista qui fuori era disponibile e Tristan è tutta dove i personaggi ascoltano il Tristano e c'è questo triangolo amoroso eccetera e quindi ancora qualcosa di inaspettato forse Freud Freud si sa che non era molto musicale ahimè ahinoi non ha lasciato degli scritti fondamentali sulla musica come lo ha lasciato invece non so i saggi sui fratelli Karamazov di Dostoyevsky per esempio o il Mosè di Michelangelo con una profondità è un'intuizione unica se avessi scritto così sulla musica saremmo tutti illuminati però ha scritto un libro importante al di là del principio del piacere e dove si parla di Erosi Thanatos Freud non ha mai usato la parola Thanatos però usa la parola Todes Trib la pulsione di morte è un saggio importantissimo del maturo Freud sul contrasto fra Eros e morte che come abbiamo visto è essenziale per capire il Tristano e così Wagner nel 1865 è riuscito a realizzare questo sogno che aveva comunicato a Liszt poter fare un monumento sull'amore che lui personalmente dice non aveva mai vissuto e con questo con questa partitura ha cambiato la storia della musica e la storia del costume europeo grazie tante grazie 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 grazie